sui pastelli sono finiti ce ne stanno ben pochi e ancora ben pochi più andiamo avanti più pochi siamo è una cosa minima sulle strutture che non ci fanno fa chiù perché primo tenevano pochi animali siamo costretti a fare la transumanza costretti che ce ne dobbiamo andare perché quando cominciamo a fare la neve cosa e roba varia non possiamo stare più qua la neve non ce la vanno a levare siamo bloccati lo mangiamo per gli animali lo mangiamo per noi e per forza la cacca è un lavoro che non c'è un altro lavoro diciamo migliore se trovate impendato così fai ancora così ma se no no si 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 proprio il paese San Gregorio se ne vanno perché non c'è sta niente non c'è una fabbrica non c'è fanno fare niente siamo stanno per gli animali e roba varie con il parco naturale e se ne andiamo per forza le regi ci stanno tutti i giorni che ti mettono a spalla rumore così ha solo chiuso non chiuso oggi chiuso rimane ma è stata chiusa questa è ma prima camminava tutto a piedi agli animali non ci serviva niente se la buscavano essi invece c'era i cereali, i fili, i bavari perché poi ne tenero più pochi sul Matese è un bel posto per il turismo e roba varie diciamo campo redondo e campo braga monti miletto ci stanno parecchi posti dove andare e quindi Grazie a tutti